E' bastato chiedere il referendum sulla riforma dello statuto che introduceva il secondo sottosegretario perché il centrodestra si sciogliesse come neve al sole, sintetizza il leader di costruire democrazia Massimo Romano. Se i cittadini sono chiamati a mettere il becco nelle decisioni della politica giunge un deterrente contro le storture. Il disegno di legge sottoscritto da tutti i rappresentanti delle opposizioni in Consiglio regionale disciplina concretamente la partecipazione diretta dei molisani alle iniziative legislative, referendum abrogativo, petizione DDL popolare. Oggi è necessario anche alla luce di quello che è accaduto recentemente con l'istituzione del secondo sottosegretario e in quel caso siamo riusciti a sventare questo tentativo della maggioranza grazie al ricorso ad uno strumento già previsto dalla Costituzione. E' però necessario meglio disciplinare le leggi di iniziativa popolare, tutti quegli strumenti che danno voce ai cittadini e che oggi in questa regione non sono disciplinati. In questo contesto si colloca questa proposta di legge. Dopo un primo tentativo anni fa da parte di Domenico Dilisa e uno più recente risalente alla passata legislatura dei 5 Stelle Patrizia Manzo e Valerio Fontana, è la terza proposta che punta ad attuare il capitolo partecipazione popolare dello statuto vigente. Nuovi strumenti per fare politica, sottolinea la capogruppo DEM Micaela Fanelli, visto che le sedi istituzionali sono svuotate. Qui come a livello nazionale, con la campagna referendaria contro l'autonomia differenziata, la pratica della democrazia diretta, sottolinea l'altra consigliera del PD, Alessandra Salvatore, costituisce una forma di anticorpi contro leggi che attentano ai diritti dei cittadini. Il testo, chiosa Roberto Gravina, si è arricchito anche di un quinto capitolo che riguarda l'utilizzo di piattaforme informatiche per referendum e petizioni utilissime che fanno risparmiare sui costi. È la terza volta che ci si prova a Palazzo da Immo, conclude Gravina, interpretando il pensiero di tutti i colleghi di minoranza. Speriamo che il DDL non venga insabbiato e quindi sia la volta buona.